Brenda ha molto apprezzato il fatto che abbiamo deciso di portare Ariel al rifugio perché adesso il divano lei ha deciso che è suo sì è tutto suo quindi buonanotte ciao a tutti io sono qua tranquilla Ariel non c'è più sì perché sicuramente lei non ha mai avuto un divano e quindi non vuole proprio scendere però scusa però dobbiamo dire anche che Ariel sta benone là sì sì sta benissimo là e poi comunque il divano è stato occupato anche da un'altra che però a Brenda non è che tanto non la vede l'importante è che quasi tutto sia solo tanto che i rettai piccoli ha poco spazio buonanotte buonanotte ciao notte buonanotte 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 buonanotte